Trovato l'accordo nella tarda serata di ieri per alleggerire la struttura di accoglienza migranti nella parrocchia di Vicofaro a Pistoia, l'intesa è arrivata al termine di una riunione fiume in prefettura a cui hanno preso parte oltre al prefetto, il sindaco di Pistoia, l'ASL, rappresentanti della Curia, della Regione e delle Forze dell'Ordine. La diocesi ha accettato di ricollocare ridistribuendoli in proprie strutture i circa 200 migranti attualmente ospitati nei locali di Vicofaro con pregiudizio delle corrette norme igieniche e sanitarie anche rispetto ad assembramenti negativi per il coronavirus. L'accordo di Massima prevede il supporto della Regione Toscana in questa operazione. Al termine della riunione è stato ricevuto anche Don Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, che ha mostrato disponibilità a partecipare al progetto, il cui accordo verrà concretizzato domani, venerdì 2 ottobre, nel corso di una nuova riunione alla quale è annunciata la partecipazione del Presidente della Regione, ancora in carica, Enrico Rossi, in attesa della proclamazione di Eugenio Gianni, nuovo Presidente eletto. Ancora da stabilire il luogo in cui avverrà l'incontro che potrebbe svolgersi proprio nella sede della Regione Toscana a Firenze.